Prova di forza della Turris che disputa forse la miglior gara della stagione allo stadio Pinto di Caserta dove i Corallini superano per 4-2 i padroni di casa della Casertana e restano agganciati alle zone di vertice della classifica a meno 4 dalla capolista Ternana che però ha disputato una gara in più. Sono proprio gli uomini di Fabiano a portarsi in vantaggio con un gran gol di Giannone da fuori aria ma al ventesimo arriva il pareggio dei Rosso-Blu con Castaldo. Nel finale di primo tempo arriva il 2-1 Corallino con Romano. Anche nella ripresa non mancano le emozioni. Al quarto d'ora è Izzillo a trovare il nuovo pareggio della Casertana ma la Turris si riversa subito in avanti e conquista il rigore che Franco trasforma portando il suo in vantaggio per la terza volta. Passano appena 4 minuti e il neo entrato Pandolfi siga il 4-2 che chiude praticamente la gara. I Corallini sfiorano più volte la quinta marcatura ma l'ultimo sussulto lo regala a Bagnale. L'estremo difensore a pochi minuti dalla fine si supera neutralizzando il penalty calciato da Castaldo vanificando l'ultimo tentativo della Casertana di riaprire i giochi. La Turris così resta ancora imbattuta in trasferta e si prepara col morale alto al prossimo impegno in programma domenica prossima a Liguri contro il Potenza.